in questo numero tesori ritrovati a Fontana Rosa in provincia di Avellino in mostra i preziosi capolavori del santuario Maria Santissima della Misericordia la vista dall'alto del campanile abbraccia tutta la cittadina di Fontana Rosa poco più di 3.000 abitanti in provincia di Avellino fino ai monti coperti di neve più giù il santuario di Maria Santissima della Misericordia legato al culto mariano tanto forte qui d'aver attirato nel corso di lunghi secoli folle di pellegrini tutto comincia quando una madonna duecentesca viene ritrovata e accade nel quindicesimo secolo in una grotta poco distante sopra un pozzo ancora oggi meta di fedeli provenienti da tutto il territorio Fontana Rosa diventa una piccola lourde qui per secoli i fedeli venivano a bagnarsi nell'acqua ritenuta miracolosa il santuario edificato per devozione dopo il ritrovamento della statua della madonna eccola qui collocata sull'altare maggiore della chiesa subisce dal quindicesimo secolo in po numerosi e rimaneggiamenti e all'inizio del novecento viene affrescato dal celebre pittore molisano ma di scuola napoletana Arnaldo Delisio. Nelle scorse settimane la visita al santuario si è arricchita di un tesoro che né la gente di Fontana Rosa né gli studiosi conoscevano o avevano mai avuto occasione di vedere. Nei sotterranei della chiesa sono state ritrovate coperte dalla polvere di lunghi secoli e ora ripulite e riportate all'antico splendore straordinarie opere d'arte legate alla devozione della gente di questo territorio. Ori argenti, arredi liturgici e paramenti, statue e lignee di fattura squisita mentre alle spalle dei pezzi in mostra vale già di per sé la visita lo straordinario cinquecentesco trittico della Candelora. Quasi tutte le opere, una quarantina quelle esposte ma già si lavora per metterne in mostra anche altre, sono di manifattura napoletana. ha catalogato i pezzi e curato l'allestimento il direttore del museo del tesoro di San Gennaro Paolo Iorio. Napoli era catalizzatrice in Europa di grandi manifatture sia dal punto di vista pittorico sia dal punto di vista puntorafo e il borgo degli orefici ha rappresentato un unicum in tutto il mondo grazie a queste intuizioni Carlo D'Angio e nel 60-70% dei casi in tutta Europa erano realizzati a Napoli. La statua in legno di San Francesco Saverio scoperta per caso in una soffitta della chiesa è seicentesca. Nello stensorio d'argento è custodita una reliquia di San Francesco Saverio che passò di qui durante il suo viaggio verso la Terra Santa. Sfolgorante un po' più avanti lo stensorio settecentesco in argento cesellato, bronzo dorato e pietre preziose. Delicatissimi i volti di questi angioletti che risalgono al seicento e degli altri angeli e bambini tutti databili tra sei e settecento esposti nella mostra. Magnifico l'ombrello viola che veniva portato in processione per il Corpus Domini così come questa Madonna addolorata del settecento. Splendidi costumi e volti della Sant'Anna con Maria Bambina e questa Madonna in legno forse il pezzo più antico di tutti ancora non datato con precisione che ricorda il ritrovamento della statua sacra sul pozzo della grotta. Si riscoprono le proprie radici, il proprio territorio e anche una parte essenziale della propria vita, dei nostri avi e anche dell'artigianato del meridione che ha avuto un grandissimo ventaglio di novità nel seicento, nel settecento ed è stata anche la riscoperta dei valori. Qual è stata la risposta della cittadinanza? Un'ottima risposta perché rivedere la fede del popolo, la devozione e l'arte è qualcosa che ha affascinato un po' tutti. Tra i pezzi in mostra un delicatissimo bambin Gesù settecentesco, unico superstite dell'antico e prezioso presepe di Fontana Rosa, oggetto nel dicembre dell'80, nelle convulse settimane che seguirono il terremoto, di un clamoroso furto. La statua del bambino, poiché il furto fu commesso prima di Natale, non era ancora stata esposta e così sfuggì al saccheggio, che per l'intera comunità di Fontana Rosa, pur impegnata nel corso degli anni a realizzare un nuovo presepe, quello che ora vediamo nella navata sinistra della Chiesa, resta una ferita aperta. Tutti si sono messi in moto, in qualche modo, per ricostruire questo presepe che adesso vediamo alle mie spalle e che è qualcosa di spettacolare. Una ferita oggi in qualche modo sanata dal ritrovamento del tesoro nella Chiesa, occasione importante di sviluppo culturale e turistico per questo piccolo centro e per tutto il territorio erpino. Io credo che questo debba essere il primo segmento di un grande lavoro perché c'è pochissimo di documentato su questa storia del monastero, del santuario e di questi pezzi. Quindi questo segmento deve essere solo il punto di partenza di una grande storia.